Bella ragazzi, siamo i crassi, siamo tornati con un nuovo video su Cleverbot e dopo parecchio tempo che noi lo facevamo e niente, oggi devo uscire Pokémon Marron Merda però non abbiamo potuto farlo perché ci ha deletato tutti i salvataggi non sappiamo per quale motivo, quindi non facciamo in tempo a rifare tutto quanto quindi lo ce l'avrete forse, probabilmente per giovedì o venerdì ovviamente dovremmo rifare quel pezzetto che avevamo fatto inizialmente quindi riprenderemo da là ma oggi siamo su Cleverbot, quindi vaffanculo mi dici perché cazzo si sono cancellati i file di Pokémon Marron Merda, grazie perché sono veramente incazzato di questa cosa sono un alieno, ok c'è perché un cazzo? tu io o tu sono un alieno, deciditi più che altri punti interrogativi proprio non ci rimette io o tu? io o tu? io o tu, no io o te io o tu? dopo arriviamo deciditi cosa? ad andare, ad andare affanculo ok avvelenato eh oggi proprio avvelenato col mondo mamma mia ok ok ah vaffanculo brava pampina puttanella per poi io giovanna che bravo se no era giovanna se era brava scusa che cazzo? scusa allora sei meglio ti posso essere amica tua amica posso porca troia perché non si può scrivere devi aspettare la risposta bravo mamma mi stanno fattendo la web è bravo è bravo è bravo è bravo brava io sono femmina sei una puttana non sei una femmina bravo io sono maschio tu sei maschio che l'ho deciso io agad si ma che si si ma fa si 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 elephants si si elephants vabbè visto che ci siamo no siamo alla sagra del no sense direi io besti mi fa pettine ma ok io besti in continuare sempre e comunque quare mamma mia sempre no una volta si no quasi sempre famo quasi quasi femmina è un trance elephants 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 non so stanno solo coca coles che che dese robot ti ho dato del robot ma ci sarai robot ma guarda ti insulti ti insulti razzisti ancora nel 2015 quasi stanno da c esti tu critica marina è bravo è bravo bravissimo grazie oggi ci ha venuto mi scrivi una frase che abbia almeno tre parole sole amore e amore 4 millimino di mezzo so quanto pure queste questa è una poesia no questa è sparta immagini abbiamo messo in crisi perchè lui cioè lei sapeva milio meno di mezzo però non sapeva però non sapeva cosa voleva dire quindi ha scritto la prima cosa che è venuta a mente esattamente perchè gli abbiamo chiesto una frase di più di tre parole sta ancora pensando ragazzi mamma mia ragazzi sono passi due giorni quindi si sboccia perchè in questo momento è mezzanotte auguri buon anno incredibile i clever bot ancora non risponde mamma mia vai che so ste cose sei bollicino della vodka attenzione ha risposto mamma mia attenzione you are good puttanella ho detto pezza di merda contami algo uno due tre quattro cinque lo so cosa vuol dire contami in spagnolo ho fatto il linguistico no contami in storia larga allora c'era una bocca c'era certo che siamo in tema giusto no ciao ma proprio così no ho detto che occhi grandi chi sto cazzo sto cazzo mamma mia fermate hai distrutto di voi di rimanere l'ultimo sto cazzo sto cazzo sto cazzo vai disturbare i tuoi anni solitare la cazzo una volta che ride oh aah no grazie ahah ah ma allora really redo redo eh si eh e tu sei già lui non tengo a segnalare per la traduzione so che significa se che che si non c'ha segnale non c'ha campo ammazza dai peggio the wind eh è u the wind è u perché in Europa perché oddio ma è la serberina ma è la serberina mamma mia me fai sali lictus un che? un i tuss non è qua se è un gruppo che non li conosce è un gruppo è un fenomeno francese si faccio un capito i famosi i tuss chi senti una volta poi non li senti più no si dance allo con un dance che è pappaute pappa tua oddio oddio un ammazzo what is that vabbè dance è danze in inglese binario sette ma che è sta cosa tre quarti ma che? eh harry potter ah mo tutti io non ho visto harry potter no that's not binary hai rotto il cazzo hai rotto il cazzo non ci faccio se no va a finire male sta cosa muori ma mori te ma mori te l'hai capito astro agii io ce l'ho vero so te torbela te sparo si io ok questa è la nostra home page si ma hai rotto il cazzo clever bot deve morire stavolta ci ha fatto scrivere veramente di brutto si comunque raga se vi è piaciuto lasciamo un 3.000 like e noi ci vediamo al prossimo video di clever bot perchè c'ho questa voce non lo so è tipo tanta che è tanta checca ah no 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 ahahah 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 guarda 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 che c'è la testa ahahah ti ridi però potete vedere che c'è la testa che non bene comunque guarda lasciamo 3.000 like 3.000 like e riusciti al prossimo video bella bella Ciao